ciao a tutti da Saludatore eccoci qui a piazza Testaccio per festeggiare i 50 anni del club Testaccio ecco qui Stefano Dragone ciao a tutti buona parte che sentiamoci oggi è il giusto della Testaccio è proprio dove la Roma è il primo scoloso del Parambolo grazie a tutti un saluto e forza Roma un saluto anche al saludatore salutare ecco un saluto speciale a chi lo vogliamo fare è la festa della Roma la festa della Roma poco tempo fa è stata la festa del nostro deputato Francesco Tocchi lo saluto io ho scritto la cosa e la dico per i 43 anni 43 cioè auguri io non mi scordo oggi sono 43 io non mi scordo da te c'è mai emozionato il cuore di ogni altro giocatore il calcio non è tutto nella vita ma quando c'è di noi ogni partita la vediamo in modo diverso con te non ho mai mezzo adesso non è il momento di ricordo ti faccio l'augurio se non mi scordo Francesco buon compleanno ciao Francesco ti aspetto presidente solo per qualche anno ciao pure prima del cerchio ciao speriamo ciao ciao